Il presidente della provincia di Barletta, Andrea Trani, Francesco Spina, ha formalizzato il conferimento delle deleghe ai consiglieri provinciali. Questi gli incarichi assegnati. Gigi Antonucci, vicepresidente della provincia, con delega alle risorse naturali, politiche ambientali e difese dal suolo. Domenico Campana, pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia scolastica. Beppe Corrado, politiche attive del lavoro, formazione professionale, rapporti con le associazioni provinciali, contenzioso e bilancio. Vincenzo Giorgino, polizia provinciale, sport, turismo e cultura. Andrea Minervino, lavori pubblici e infrastrutture. Benedetto Silvestri, vigilante, agricoltura e protezione civile. Tonia Spina, attività produttive, pesca, politiche scolastiche e della pubblica istruzione. Come preannunciato nelle scorse settimane, ha sottolineato Francesco Spina, ho voluto coinvolgere da subito i consiglieri provinciali nell'azione di governo della provincia, attribuendo loro le deleghe più importanti. L'intenzione è quella di privilegiare il coinvolgimento di tutti i rappresentanti della maggioranza, assicurando la più ampia rappresentanza possibile alle 10 città del territorio. L'altro obiettivo era quello di garantire la piena continuità con il percorso amministrativo intrapreso dal predecessore, Francesco Ventola, mantenendo inalterate le deleghe a quei consiglieri che avevano operato in giunta negli stessi settori, fruendo così dell'esperienza maturata e delle conoscenze acquisite. L'incarico di vicepresidente, attribuito al consigliere provinciale Gigi Antonucci, ha aggiunto, è inoltre un doveroso riconoscimento alla città di Barletta. Quanto alla conferenza dei sindaci, auspico che possa essere presieduta dal sindaco della città più popolosa del territorio, Andria, sarebbe inoltre opportuno riconoscere la presidenza del Consiglio ad un rappresentante dell'opposizione. Il presidente della provincia, Francesco Spina, ha infine augurato buon lavoro a tutti i consiglieri provinciali, con la certezza che sapranno garantire la collaborazione necessaria per la crescita dell'ente, privilegiando sempre gli interessi del territorio e delle comunità provinciali.